Ma ecco qui nostro piccolo condannato a morte A morte? Per aver rubato due mele Due mele? Sono mesi che saccheggi mercato Diamo una rinfrescata all'idea del ragazzo Elenca i reati da lui commessi Sì, ma limitiamoci all'ultima settimana Altrimenti passeremo qui tutto il ramadan Allora, lunedì Forto di farina al mulino di Basim Era per davvero Vadeguardiano dell'Osi Ha nove figli, non mangiano male Ah, la fame era forza del carattere Vai avanti Parteli! Furto di una botte di acqua piovana La capana dei maniscalco ha preso fuoco Ho dovuto prendere sempre... Ah, non capisco perché spegnerle